Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere come vado a sostituire le lampadine della plancia a comando di scaldamento della mia 7.1 serie. Andiamo! Quindi andiamo ad allentare uno e due viti. Quindi le cacciamo fuori, poi andiamo a rimuovere questo pomello che fa da fermo, da ulteriore fermo, basta tirarlo ed esce. Ok, poi adesso qui mi esce molto facilmente perché io ho già fatto questa operazione, però precedentemente per tirarlo fuori l'ho dovuto forzare un po' infilando un cacciavite così, facendo molta attenzione ed esce fuori la plancia. Una volta uscita fuori la plancia, queste sono le lampadine da andare a cambiare, le quali basta prenderle con due dita, tirarla ed esce. E andiamo da ricambista a comprare una lampadina di questo genere. Una volta sostituite una e due lampadine, andiamo a rimontare la plancia. Ora la prendiamo e la mettiamo a suo posto, ok. Poi rimettiamo il pomello a suo posto e questa volta per farlo rientrare lo facciamo entrare leggermente e poi lo spingiamo col pollice fino a quando non sentiamo clic. Questo clic, questo clic e poi ribulloniamo la plancia. Ok, ed eccoci arrivati alla fine. Grazie della visione, alla prossima ragazzi.